Non ti ho detto tutta la verità. Cos'è questa volta? Pesce. 200 tonnellate. Da dove? In Giappone. Pesce radioattivo. Ora non voglio avere segreti per te. Devo dire che lei non mi ha mai deluso. Ho avuto fortuna. L'Africa è il primo produttore al mondo di bambini. E ai bambini serve una cosa in particolare. Latte. Ambizioso e spietato. C'è un signore là fuori che vuole vedere la cucina. Che cosa gli devo dire? Fammelo vedere. Tutto quello che deve vedere è qui, davanti a lei. O si fida di me o può anche andarsi. Così quando all'OMS scelgono il latte da distribuire nei campi profili, non esitano. Scelgono questo. Spero di aver puntato sul cavallo giusto. Questa non è cucina. È una guerra. Perché? È morto tra le mie braccia. Era interessato alla cucina. La cucina? Facciamo il latte senza latte. Il suo nome non è Mercury e non è nemmeno il bravo uomo che lei crede. Noi siamo tutti sacrificabili. Io l'ho fatto con te. Stasera ho bisogno di qualcuno di cui fidarmi. Ho tutto sotto controllo. Vendo qualunque cosa, ma chiunque, ha per tutto. Allora ci vediamo, mister... Mercury. Ciao, dimmi. Ciao, dimmi. Ciao, dimmi. Ciao. 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 Grazie a tutti.